Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Furto sventato in un capannone di arredamenti, è la terza volta che i ladri fanno visita all'azienda A rischio i dipendenti della Rincicotti Orciani, la ditta fanese acquistata dall'Aset S.P.A. Legittima difesa, in 150 aderiscono alla petizione popolare contro la criminalità Buonasera dalla redazione di Occhio alla Notizia, apriamo questa edizione del telegiornale Parlandovi di un intervento dei vigili del fuoco avvenuto questa mattina Una Mercedes classe C station wagon è andata completamente distrutta dalle fiamme Poco prima delle 10 di questa mattina, in località Santa Maria dell'Arzilla Le scintille sono state innescate a causa del blocco dell'acceleratore Procurando un'avaria al motore Il conducente, un agente di commercio, si è subito fermato ed è sceso sul posto i vigili del fuoco di Fanno Ed ora la notizia che era presente nei titoli di apertura Un tentativo di furto avvenuto in un capennone di arredamenti a Bellocchi di Fanno Vediamo il servizio di Simona Zonghetti I ladri proseguono senza sosta nella loro attività illecita con furti in abitazioni e attività industriali Alla 360 gradi arredamenti di Bellocchi di Fanno è la terza volta in quattro mesi Che i malintenzionati entrano negli uffici o nel capannone dell'azienda È successo anche ieri sera, intorno alle 22.30, orario in cui è partito l'allarme alla centrale operativa della Vigilar La pattuglia più vicina, dopo pochi minuti, è giunta sul posto ed ha subito notato una porta aperta con chiari segni di scasso Ma all'interno dello stabile non c'era più nessuno Evidentemente i ladri sono stati disturbati dal sistema di sicurezza e dal pronto intervento della vigilanza privata Avvisato anche il titolare, dopo un controllo, ha capito che non era stato portato via nulla o quasi Che cosa hanno rubato? Allora, a un momento, ieri sera, non ci siamo accorti di niente Stamattina mi sono mancati due trappanini nuovi che sono arrivati l'altro giorno E poi è scattato l'allarme? È scattato l'allarme ieri sera, come hanno sforzato, è scattato l'allarme Quel punto è arrivata la vigilia? Da quei dieci minuti è arrivata qui la guardia giulata Poi dopo mi sono fermato fino a stamattina alle 4 Era tutto sforzato, tutto aperto, quindi ho dovuto rimanere qui Quindi in Capandone era passata una persona sospetta? Tre giorni fa, cioè venerdì, venerdì si è passato un Moldavo a chiedere lavoro È entrato perché ho trovato il cancello aperto, che non l'ho di solito sempre chiuso Invece è entrato con la bicicletta e guardava in giro L'altra, ieri sera abbiamo avuto il furto Però ho avuto un altro precedente perché c'è una telecamerina che è piazzata nella strada Che mi ha registrato una persona anche il 18 di dicembre Secondo lei che cosa cercavano? Ma secondo me volevano portargli il cancello Secondo me Ha denunciato regolarmente? Sì, sì, il carabinieri ha già fatto tutto quanto Ha consegnato anche le immagini? Sì, sono immagini notturne, la qualità è bassa Poteva andare peggio? Poteva andare peggio, sì E anche oggi sono proseguite in mare aperto le ricerche dell'anziano 84enne scomparsa dalla sua casa nella notte tra venerdì e sabato scorso Due vedette della Capitaneria di Porto, una di Fano e una di Pesaro Hanno continuato a perlostrare il tratto di mare tra Fosso Seriore e il Cesano E ora una notizia di ambiente perché la Polizia e il Corpo Forestale dello Stato Hanno scoperto una discarica abusiva di rifiuti ferrosi, edili e di elettrodomestici e mobili in un terreno privato di Vagnino di Urbino Il proprietario, un elettricista di 55 anni, riparava elettrodomestici in un capannone accanto E accatastava i rifiuti nella discarica E' stato denunciato Ai controlli ha partecipato anche l'ARPAM di Pesaro Ed ora il maltempo perché registriamo un avviso di allerta meteo della protezione civile delle marche Annunciato a partire da questa sera per tutta la giornata di domani Precipitazioni diffuse a carattere di rovescio e nevicate sopra gli 800 metri Particolarmente intense sui monti Sibillini La costa sarà spazzata da mareggiate e raffiche di vento fino a Burrasca Sono possibili anche smottamenti, allagamenti ed esondazioni Con un rischio di criciticità idrogeologica moderato Ed ora vi parliamo di un tema di estrema attualità La legittima difesa In poche ore, i giorni scorsi, Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale Hanno raccolto bel 150 firme per una petizione popolare Su questo argomento, vediamo il servizio Sono state raccolte circa 150 firme in poche ore Durante il banchetto di sabato scorso nel centro storico di Fano Per la petizione popolare sulla legittima difesa L'obiettivo di Fratelli d'Italia e Alleanza Nazionale È quello di invitare governo e Parlamento A rivedere la legge sancita all'articolo 52 del codice penale E attuare così misure in grado di contrastare Il fenomeno dei furti contro la proprietà privata Il partito dunque continua a battersi Per vedere garantito il diritto di ogni cittadino di difendersi Chiediamo allo Stato di dare tutte le sicurezze ai cittadini italiani Chiediamo allo Stato di tutelare le forze di polizia Che troppo spesso sono abbandonate in mezzo a una strada Per difendere gli italiani Chiediamo allo Stato di intraprendere un percorso coraggioso E di andare verso la legittima difesa Troppe volte questo Stato abbandona gli italiani Bisognosi di sicurezza L'ultimo esempio è proprio sui giornali di oggi Dove vediamo due carabinieri rinviati a giudizio Per aver fatto un arresto troppo cruento Troppo violento per qualcuno C'è una manifestazione appunto che si svolgerà nei primi di marzo Sì, Giorgia Meloni ha lanciato questa petizione nazionale Per la legittima difesa E ha lanciato anche una manifestazione nazionale Il 7 marzo a Venezia per la sicurezza Per mandare a casa questo governo svuota carceri Questo governo che ci lascia in giro i delinquenti E mette le vittime come carnefici E noi torneremo in piazza il 7 marzo a livello nazionale Per stare dalla parte degli italiani La raccolta firme proseguirà a Fano anche sabato prossimo Sì, tanti si sono fermati sabato scorso Hanno raccolto l'invito a firmare per questa petizione Che Fratelli d'Italia ha lanciato anche su tutto il territorio nazionale E ringraziamo anzi i cittadini che sono venuti a firmare questa nostra petizione Rilanciamo anche l'invito a tornare sabato prossimo Sempre dalle 10 alle 13 In Corso Matteotti Lì sotto il Palazzo dei Capuccini Volete garantire sia la sicurezza per i cittadini Che maggiore giustizia Che maggiore giustizia Anche perché non è che noi crediamo nel Far West Dove tutti quanti dobbiamo avere la pistola e sparare In una casa se ti vengono dei malviventi Non è che c'è un va de mecon per la difesa Può accadere che nella difesa Accada un fatto delituoso Ma per questo non è che la vittima deve passare da carnefice Perché non è così Ed ora ci spostiamo al Fenile di Fano Dove questa sera intorno alle 18.40 Un fanese di 74 anni a bordo della sua autovettura Una Volkswagen Ha accusato un malore Mentre procedeva in via Fenile All'altezza della fondazione agraria Cante di Montevecchio A causa appunto del malore è uscito di strada Finendo nello scavo della pista ciclabile Che percorre appunto il lungo strada via Fenile L'uomo è stato soccorso dal 118 Quello ha trasportato al pronto soccorso Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale Per i rilevamenti e per dirigere il traffico Che ha subito anche dei rallentamenti Ed ora la pagina della politica Il sindaco di Pesaro Vice Presidente nazionale del PD Matteo Ricci È il nuovo responsabile del Lanci Per le politiche istituzionali e le riforme La delega gli è stata assegnata Dal presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni Piero Fassino Ricci prende il posto del sindaco di Bologna Virginio Merola Ancora pagina della politica E continua il tour del prefetto Di Pesaro Luigi Pizzi Che si è recato oggi in visita Alla capitaneria di Porto di Pesaro Accolto dal capitano di fregata Angelo Capuzzimato L'incontro è stato un'occasione Per presentare al prefetto Il personale e i mezzi nautici In dotazione alla Guardia Costiera Con particolare riferimento Alle importanti opere infrastrutturali Che sono state realizzate E dagli sviluppi futuri Del porto stesso Ed ora parliamo di lavoro La Cisle di Fano È preoccupata per le sorti di un'azienda E dei suoi dipendenti La Rincicotti Vediamo quali sono i termini E' in grosse difficoltà La Rincicotti Orciani Una ditta al 100% Di proprietà Aset Che è stata acquistata Nel 2003 Per una cifra Che si aggira attorno A 1.200.000 euro Nel 2012 Poi è avvenuta Una cessione delle quote Per 200.000 L'azienda Che si occupa Di acque meteoriche Di pulizie di fosse biologiche Pozzetti Caditoi E condotti fognari Attualmente comprende Un'amministratrice E quattro dipendenti Che sono in cassa Integrazione in deroga E che quindi Lavorano a giorni alterni Per sollevare Il problema occupazionale Questa mattina La CISL di Fano Ha indetto Una conferenza stampa Il sindacato Ha evidenziato Che il comune Sta affidando Lavori urgenti A ditte concorrenti Infatti Nel 2014 Avrebbe speso 28.000 euro In ditte esterne A chiamata diretta Mentre dall'inizio Del 2015 Ad oggi Ben 5.036 euro Come specificato La Rincicotti Orciani Lavora non solo Per il pubblico Ma anche per il privato Quindi per cittadini Associazioni identi Come l'ospedale O l'Azur Lavori che possono essere utili Però anche 18 comuni soci Di Aset Che hanno il 3% Della proprietà Mentre il restante 97% Appartiene Nel comune di Fano Quindi secondo la CISL C'è una possibilità Concreta Di poter salvare Il futuro Dei dipendenti Anche i comuni soci Per il quale Potrebbero Usufruire Della Rincicotti E Orciani Potrebbero Risparmiare Utilizzando Quindi per Caditoie E altri tipi Di lavoro Che riescono a fare Spendendo meno Però Questo potrebbe Agevolare Proprio i contribuenti Stessi Di sicuro sì Perché se il comune Risparmia Riesce a dare Un servizio maggiore Fatto sta Che se il bilancio Della ditta Non raggiungerà Un determinato Fatturato Oltre a non rimanere In forza lavoro Si vedrà revocare Anche la licenza Di trasporto Il cognome Rincicotti Potrebbe essere Un'arma a doppio taglio Perché? Perché con il cognome Rincicotti Il cittadino Può chiamare O la Rincicotti Orciani O può chiamare Una ditta privata Che Diciamo Corrisponde A un altro nome La ditta Perché Rincicotti È l'ex proprietario Della Rincicotti Orciani E quindi si potrebbe Creare confusione? Si potrebbe creare Molta confusione C'è un altro fatto Che vi suscita Di dubbi Ovvero L'acquisto Da parte di Aset Di un camion E che cosa è successo? Beh L'acquisto Di un camion Di Aset Quando magari Noi abbiamo Dei camion Che stanno fermi In magazzino E due persone Che sono in casa Integrazione Ecco qua E come consulente Che hanno chiamato? Come consulente Loro Che sappiamo noi Sempre Da voci ufficiose Hanno chiamato L'ex titolare Della Rincicotti Orciani E quindi il vostro concorrente? Il nostro concorrente Ovviamente All'Aset Il diritto di replica La fusione La fusione La fusione delle due Aset Potrebbe aggravare La situazione? Noi abbiamo paura Che La Rincicotti Orciani E i quattro lavoratori Della Rincicotti Orciani Venga messi in liquidazione Per cui al momento Nel quale si farà La fusione Delle due Aset I lavoratori Della Rincicotti Orciani Vengono licenziati E quindi perdono Il posto di lavoro E ora Auspichiamo Che il comune Non solo Nella parte politica Quindi da parte Del sindaco Che ha dato La sua disponibilità A far lavorare A Rincicotti Orciani Ma anche Nella dirigenza Negli uffici preposti Facciano lavorare A Rincicotti Orciani Per i lavori Di loro competenza E proprio su questa questione Il sindaco Di Fano Massimo Seri Ha risposto Alla CISL Vediamo in che termini Beh Quando Un'amministrazione Quando un'azienda In difficoltà Deve essere Sempre sensibile Deve usare Tutte le leve Di cui è in possesso In questo caso Parliamo di un'azienda Che è controllata Da Aset Spa Che fa determinati Servizi Per quello che ci riguarda Però purtroppo Parliamo di risorse Non importanti Io avevo già avuto Modo di incontrare I sindacati E mi ero impegnato Di destinare Dove è possibile Quelle attività Che loro possono fare Di cui l'amministrazione Ha bisogno Io ne ho parlato Anche con gli uffici Anche se noi abbiamo Delle regole Poi possiamo solo Affidare in house Determinati servizi Altrimenti gli altri Seguono Le gare Però Il problema vero Che qui parliamo Di cifre non importanti Che non possono risolvere Il problema Di un'azienda Quindi È una piccola parte Che noi possiamo fare Anche qui però Dobbiamo vedere Compatibilmente Con le capacità Del nostro bilancio E delle esigenze vere Che noi abbiamo E ripeto Non si parla Di risorse È molto importante Mensili Le domande Dovranno essere Presentate Entro il 3 marzo E nel caso Ci fossero più di 20 iscritti Sarà effettuata Una selezione Preliminare Per maggiori informazioni Andate a visitare Il sito www.provincialavoro.it O E .faroni Chiocciola Confindustria .pu .it E allora Servizi cimiteriali Sì perché In vista dei lavori Di ristrutturazione Della palazzina Al cimitero Dell'Ulio Dal primo di marzo Sarà possibile Accedere al cimitero Solo attraverso Il servizio Navetta Che sarà fornito A richiesta Dal martedì Al venerdì Dalle ore 9 Alle ore 12 E ogni sabato E domenica Oltre la settimana Immediatamente precedente E seguente Le festività Dei defunti Pasqua E Natale Dalle ore 9 Alle ore 12 E dalle 15 Alle ore 17 Formazione Scuola Sono due elementi Estremamente legati Tra loro E allora La scuola Di alta formazione Silvano Federici Ha organizzato Un secondo seminario Di studi Dal titolo Educare E Educarsi Scienza Salute Stile E forme Di vita Che si svolgerà Domani Dalle ore 15 Alle ore 18 Nella chiesa Di San Filippo A Fossombrone Per l'occasione Interverrà il rettore Delle università Degli studi Di Urbino Vilberto Stocchi Che svolgerà Una lezio magistralis Sul ruolo Dell'esercito fisico Nella prevenzione Delle malattie E nel miglioramento Della qualità Della vita Ed ora Ultima notizia Su quel carnevale Così Roboante Che c'è stato Quest'anno L'edizione 2015 È stata Un'edizione Veramente Da segnare E Naturalmente A conclusione Di tutto C'è stata La lotteria E allora Ha il suo Fortunato Vincitore La lotteria Del carnevale Di Fano E vince Il primo premio Una Opel Corsa 1200 Coupé Enjoy È Francesco Spadaro Di 51 anni Che abita a Marotta Ha origini pogliesi È commerciante Di frutta E verdura Ha due figli Spadaro Ha comprato Solo due biglietti Della lotteria Del 2015 E quindi Come vedete La Dea fortuna È proprio Bendata Perché basta Comprare un biglietto E se vi deve Arridere Vi arriderà E allora Vi ricordo che giovedì Torna primo cittadino Il sindaco di Fano Massimo Seri Sarà nei nostri studi Per rispondere Alle vostre domande Potrete contattare La nostra redazione Per intervenire Naturalmente In diretta Chiamando il seguente numero Lo 0721 861433 Oppure Mandare un sms O anche un whatsapp Al 338 4968 250 Bene Con quest'ultima notizia Grazie per essere stati In nostra compagnia Quest'edizione di Occhio A una notizia Termina qui Dopo di noi Naturalmente dopo cena E quindi Buona serata E buon proseguimento Con i nostri programmi Arrivederci Grazie a tutti